Ehi! Via dalla strada! Gli erranti hanno teso un'imboscata al nostro convoglio qui a sud. Il pacco è al sicuro. Capelli sta portando tutto al punto di controllo. Bene, i chimera hanno un punto di raccolta dall'altra parte. Dobbiamo prendere una navetta e caricarci sopra il pacco. Silenzio e seguitemi. Sulla sommità della piattaforma c'è una navetta. Se la prendiamo, possiamo portare la bomba a Tedalus prima che se ne accorga. Controlliamo i caricatori. Sono certo che ci stanno aspettandola. Per mio volere, l'universo rinascerà. Non sparate! Sto bene. Capelli! Non ci stai. Non ci stai. Non ci stai. Non ci stai. Libero Ecco uno a comando, il pacco è a bordo Andiamo, dobbiamo portare quella bomba a 200 metri dal reattore L'esplosione combinata distruggerà tutto entro 5 chilometri L'esplosione combinata distruggerà tutto entro L'esplosione combinata distruggerà tutto entro Per una volta potrebbe provare ad atterrare normalmente L'esplosione combinata distruggerà tutto entro Stia indietro Questo è soltanto l'inizio Signore, mi perdoni È stato un amore